Lazy Antichit non è presente su Fortnite. Ovviamente come 5 adesimo tutorial su Fortnite per risolvere il suo problema riguardo a Lazy Antichit che non funziona, che non è presente sul gioco, ovviamente quando vai a installare Fortnite su Epic Games si installa automaticamente su PC. Quando si avvia anche il prompt dei comandi che sarebbe questo qua, tipo quando vai a installare Fortnite si apre per un secondo questo prompt dei comandi e si installa automaticamente la cartella dell'Easy Antichit in Fortnite e puoi aprirlo senza problemi. Però c'è chi non ha questo Easy Antichit in Fortnite, tipo quando vai ad avviare Fortnite l'Easy Antichit non è stato eseguito correttamente, l'Easy Antichit non si è avviato correttamente quindi per farlo devi andare direttamente nella cartella di Fortnite, tra i puntini gestisci ovviamente la cartella dell'Easy Antichit te l'ha data, però devi installarlo tu, quindi vai nella cartella Fortnite Game Banaris 1.64 l'Easy Antichit trattino basso Camu, oppure l'Easy Antichit questo qua. Se non hai questa cartella clicca qua dentro e clicca due volte su l'Easy Antichit trattino basso EOS, esegui come amministratore e si aprirà automaticamente con la schedina del CMD che ti ho fatto vedere. E c'è anche la cartella dell'Easy Antichit trattino basso Camu. Scelicchi sopra ed eccolo qua, esegui come amministratore. Eccolo qua, quindi current game 217 rimane così come. Se qua non c'è scritto riparazione c'è scritto installa, installa l'Easy Antichit. Per esempio io faccio disinstalla, come puoi vedere a me adesso c'è scritto installa ora. Installiamo così l'Easy Antichit, faccio finisci, lo avvio di nuovo. Il programma funziona correttamente? Sì, il programma funziona correttamente. Faccio anche la riparazione. Riparo l'Easy Antichit e finisco. Apro anche quest'altro Easy Antichit ed eccolo, ed eccolo qua. Che si è avviato anche assieme al prompt dei comandi. Ora non mi resta che avviare Fortnite. Ovviamente se non dovesse funzionare vai nella cartella, cancella le due cartelle dell'Easy Antichit e poi fai la verifica sul gioco. Quindi la verifica sul gioco è questa. Cancella quelle due cartelle, tre puntini, tipo non mi fa cliccare tre puntini, gestisci qua sopra, verifica. E farà così la verifica del gioco. In attesa del gioco. Ed eccolo che il gioco si sta avviando. Quindi se hai altri problemi, commenta sotto al video, iscriviti, lascia like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.